Mario Della Cioppa è il nuovo prefetto di Chieti. Nato a Pescara nel 1959 e dal 2009 al 2012 ha ricoperto l'incarico di vicario del questore di Pescara ed è proprio nella città adriatica che ha avuto importanti ruoli. Della Cioppa ha prestato servizio nella divisione anticrimine e poi è diventato capo di gabinetto e capo della squadra mobile. Dal 1998 al 2002 il dottor Della Cioppa ha ricoperto l'incarico di dirigente del reparto prevenzione e crimine Abruzzo e poi è stato direttore della scuola per il controllo del territorio di Pescara dove ha curato vari progetti nazionali legati alla polizia di prossimità e dalla formazione del poliziotto di quartiere. Già questore di Catania e poi di Roma oggi al suo primo giorno come prefetto di Chieti. Sicuramente un'attenzione particolare al territorio sotto il profilo della polizia di sicurezza e quindi una interlocuzione diretta con chi ha compiti specifici in questo senso, a cominciare da questore, i comandanti provinciali dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, ma l'interlocuzione sarà massima anche con i sindaci perché poi i sindaci ci consegnano lo stato di salute del territorio. Ecco, io sarò grande ascoltatore da questo punto di vista, ma allo stesso tempo anche di supporto a ciò che loro rappresenteranno. Una novità riguarda il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica? Ho intenzione di portare il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica anche fuori della prefettura di Chieti e ho fatto riferimento già per esempio alla sede di Lanciano e di Vasto anche per incontrare i sindaci di quei comprensori. Tra le linee di azione una giornata analisi del territorio, utile all'eventuale rimodulazione delle forze di polizia. Un'attenzione particolare sarà data ai reati contro il patrimonio, alla verifica, al rilancio dei piani di emergenza di tutte le componenti operanti nel servizio pubblico. Tra gli obiettivi del prefetto anche recuperare caserme come la bucciante.